Ehi la, salve a tutti, sono ThePenem96 e benvenuti finalmente in questo nuovo episodio della One Life Challenge quest'oggi su Sekiro Shadows Die Twice Allora, raga, io non ho proprio fiducia di riuscire ad andare tanto avanti in questo gioco però intanto clicchiamo nuova partita così cominciamo a schippare tutte le cutscene iniziali e ho riprovato un attimo il gioco qualche giorno fa giusto per riprenderci un pizzichetto la mano però secondo me almeno al primo miniboss ci arriviamo dopo il tutorial ovviamente vediamo, vediamo cosa riesco a combinare saltiamo tutti i filmati possibili così da fa' prima ora io devo capire i comandi perché sono diversi così se zompa non c'è la corsa, si che c'era la corsa come si fa la corsa? come si corre? non so come si corre mannaggia, mi ricordo i bottoni particolare sto gioco intanto ragazzi come sempre la serie è registrata su Twitch ma ci si abbassa oddio mi hanno visto oddio 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 non cominciamo male eh oh vabbè oridio lei eh si si che che me sta vedendo? ma che fa? come si permette? dicevo che chi la sta guardando in diretta la vede per intero su YouTube invece la vedrete a spezzoni episodi da 20-25 minuti massimo ognuno poi dipende eh magari ma io fa 2 minuti e finita la saerie non è che ce l'ho tanto se mori qui anche perché è un gioco basato tutto sui perri se sbaglio un perri è finita è finita il problema adesso è capire i tasti perché non è che mi ricordo proprio al cento per cento c'è Sergei Rex non l'ho minciato ciao ragazzi ciao c'è il filmino ci ha dato la Kusabomoru Kusabimaru una staspatina poi c'è le compresse tecnico-tattiche ci mettiamo le compresse qui e va bene così poi io vorrei un attimino che vuoi tu che mi dici bambino che mi dici si ok le fieschette no non voglio consegnarlo perché questo attiva il patto dei campioni diciamo quindi non lo voglio proprio attivare ok figuriamo si dovrebbe far così diamo anche le compresse e si va si va mamma mia che ansia ok ma tecnicamente a questo gli possiamo fare niente perché si è girato ok però per fortuna i primi nemici sono abbastanza fragilotti ma si poteva correre ah si così così se corre non c'è la stamina ovviamente in seghiro oddio che è lento ad attaccare sono abituato a niomo che sto giocando a quello in sti giorni sento lento aspettate no voglio riprovare un attimo i perry attacca ok allora un pizzico di tempismo ce l'ho ancora nel cervello un pizzichino però eh poco poco allora io faccio il giro di qua perché così ci evitiamo due o tre nemici degli amici oddio che succede che succede sta a morire il gioco che lo picchia lo devi 96 oddio 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 so viva e non abbiamo cure vabbè questa è la zona del tutorial non vale se schiatto qui questo è il tutorial vabbè che frizza ma che c'ha sto gioco oggi niente gli piace frizzare ma tecnicamente si poteva salire su questo tetto per aggirare un nemico e fare un attacco zompante ok ammazziamo nel più possibile prima che ci vedano tutti ok però io devo fare senza cure il mini boss qui facci loro cosa si fa non si può non c'è niente per curare l'idolo del ritorno con i suoi idoli e che dopo poco morirò beh ragazzi grazie per essere passati lasciate no vabbè ma questo è il tutorial mi serve anche a me per riprenderci un pochino la mano e no è una wildlife cioè io nella vita vera mi devo fare il tutorial certo che c'è il tutorial dove? il tutorial c'è c'è immagini nasci premi apri e ce la piangono no vabbè dai è andata bene mi ricordo ancora abbastanza i tempismi per deflettere ok è andata bene è andata bene compressina si sa mai e no qua che cazzo faccio da me 97 no di vuligine bello di questo gioco è che non puoi cadere dall'esporgenza almeno non posso morire per gravità questo è già un punto a favore eh attenzione mica mica da poco mica da poco ah questo è il signor 24 qua voilà ci sarà il nuppetto anche qui io voglio un nuppetto in gioco voilà oggettino compresse che non uso perchè tanto ma dobbiamo morire per forza contro questo quindi questa è gameplay io non ci posso fare niente eh era un peter cazzo rischiato rischettino perci l'altro ci provo lo stesso ad affrontarlo ma non credo decampa molto il new game plus ce l'ho fatta sconfiggerlo c'è un filmato segreto extra niente di che ma se non me curo perchè tanto mi uccide l'ho spiegata la complessa eh no quello non è schivabile che fai è un attacco rosso se può perrià tanto il filmino salve signore che mi ha dato la protesi sono arrivato qui lo sape chiedi del nuovo braccio chiedi delle rete a posto si si sono tipo strano come te ne ando eh allora qui dietro c'è un oggetto qua dietro ma perchè zompo invece di correre che fastidio qua un borsello leggero c'è da gli sordoni gli sordoni penso che non si può correre nelle aree vicine ok compresse attiviamo il santuario l'idolo cosa ecco la cosa figa di Sekiro è che se ti siedi non necessariamente fai respawnare tutti finché non clicchi riposa questa è una cosa ottima più che ottima cos'è ah è vero che avevano aggiunto i messaggi i messaggi di tattici non parlo con quello là su perchè tanto è solo un tutorial su come combattere so come si usa il rampino grazie ok ora con calma senza correre che la fretta è cattiva consigliera e andiamo avanti e andiamo avanti oppala oppala titolo lo attiviamo e ci riposiamo pure così nel caso succede qualcosa di sgradevole è finita la serie no non è vero ricordiamoci che in Sekiro si può morire una volta perchè si può morire una volta perchè è proprio gameplay noi non moriamo istantaneamente appunto e ombre muoiono due volte questa è una cosa fatta apposta per me per me morire voilà per lo meno per lo meno diciamo che con il fatto che i perry sono molto forti e anche i backstep mi sembra che i backstep shottano tutti no anche i perry shottano si shotto tutto shotto sono molto contento io di shotta tutto oddio non mi ricordo le strade però mi ricordo una cippa del vero di sto gioco ho giocato solo una volta 203 anni fa non si ricorda più voilà qui c'erano i cani quelli fastidiosi vè magari quello sbagliato oppala easy c'è il cane il cane cane ecco il cane non fa strano ok ma che vuoi fa ma che vuoi fa ok per il momento sta andando abbastanza discretamente niente niente di particolare però si campa allora qui ci sono i gagnolini un bagliato bottone vorrei non morire se fosse possibile si lo so come si usano gli oggetti rapidi grazie del consiglio prega ok mi riposo così mi curo ci riposeremo ogni volta che sia possibile in sto gioco salve cane non c'era niente no a chiederci tanto è inutile ucciderli tante volte perché non non ci sono anime non c'è niente per livellare in sto gioco quindi è un po' inutile come si a spreca vita ma questo non dovrebbe avermi visto quindi via una vita basta basta che mi hanno inseguito i cani si vabbè in qua mi hanno inseguito il cane mannaggia ok no questo è rosso mannaggia il Pietroburgo mannaggia Pietroburgo bravo bravo che si fa oddio oddio ok ma è zitto i tutorial di me da me confondono mannaggia i tutorial oh vede per il tutorial ma guarda un po' qui a posto grano di rosario seme di zucca e fin qui ci siamo ovviamente non facciamo completismo in niente quindi correrò abbastanza nelle aree ora mi serve sapere dove era l'idolo di quest'altro luogo era un po' più avanti però noi possiamo andare di qua per aggirare un paio di nemici fastidiosi e prenderli dall'alto ok valla ezz faccio quelli che sparano che sono cattivi mi devo ricordare che si scriva con B e non con A ma è già miseria ok andiamo a prendere lo spadaccino lo sparaccino lo sparoppino chi c'è? chi è che me vede? fa un po' tutti è il vero mamma mia che bello però gli assalti che si possono fare in sto gioco molto particolari giuccio intanto ma fai qualcosa attacco solo io non c'è problema vabbè non c'è problema dà anch'io dà anch'io voilà oppa avvio un altro oppa là dai dai ci sono ancora giù chi ha pensavo peggio ora se non ricordo male dovrebbe esserci anche uno grosso grosso qua dietro no? che noi lasceremo in pagina assolutamente è lì è lui? muore? ok muoiono anche loro in un colpo molto bello molto bello questa cosa mi ispira fiducia sfera mi but è la ricchezza devo guardarmi che bisogna giucciare i sordi qui ok e possiamo andare avanti questa è l'MPC la vecchia no non sono i nosche non sono i tuoi figli è il Buddha il Buddha particolare mi ha dato il tonalino è il tuo figlio è morto qua guardalo qui secondo ok perci ora di qua si torna indietro non è ciò che voglio fare mentre voglio salire qui per fare l'attacco salto blu che non m'ha fatto vabbè data bene lo stesso oddio oddio ho dimenticato i bombardatori qui eh ma non c'era una strada secondaria per gire i bombardatori si da qua c'era anche il pollo gigante ah no qui c'è il mercante c'è il mercante che ti prendo nemmunque voilà voilà questo bombardatore aiaiaiaia oddio sono vivo oddio 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 vorrei una cura se è possibile se non è possibile è diverso ma non c'era un idolo qui da qualche parte scusate chi che mi sta a vedere pezzetto pezzetto ok questo lo ammazziamo così e l'altro stiamo attenti mi doveva delle compresse ero più contento però ok ok è andata bene cuccio questo cazzo è l'idolo mi ricordavo che era molto più vicino l'idolo scultore qui dove è bella eccolo l'idolo attenzione che qua c'è il tacchino pericolosissimo ok se sto pollo ci prendeva era finita eh io ve lo dico attivissimi polli idolo perfetto oh potremmo riuscire ad arrivare al primo boss eh mica da poco qua ora qui c'erano delle strade secondarie abbastanza utili per ottenere un grano del rosario se non ricordo male non me lo ricordo sinceramente però andiamo a vedere oddio qui ora si può scostare oddio oddio sto pericolante qui attenzione nel trio qua oppala oppala e noi qua siamo sentono andati indietro molto bene non sa via questa strada mannaggia il pietroburgo che che mi vede vorrei che non mi vedesse nessuno per il momento ok che che mi stavo vedendo ah vabbè il pollo che mi frega del pollo oppala e questo è il primo boss potremmo dire il primo nemico grosso oh cadere oh ho visto ah non volevo farmi vedere non volevo farmi vedere non volevo farmi vedere chi è che mi vede ah questo sei tu questo è mercante no quella notte ok con un po' informazione non so se lui può vendere si voglio continuare ad acquistare la panna sputa fuoco si è resettato l'aggro dell'amico si tecnicamente io posso fare una cosa tattica così ah è andato troppo lontano aspetta zitti niente non ho visto non ho sentito ok ok ma ci su che male no sentite ho usato una compressa di sicurezza che non mi avvito mannaggia ma che dolore ma faceva sempre ha sempre fatto tutto sto male oh no è finita è la prima vita se ne va cioè la prima vita prima di rinascere insomma perché morte totale scusa ah è il tutorial prendi il mio sangue e vivi ancora è obbligatorio raga c'è sento niente io e non la contava resurrezione ok son vivo son vivo e sono resuscita ok ora devo stare più attento di prima meno aggressivo perché non mi ricordo no mannaggia la presa mi è sciotta è finita ragazzi hanno durato 23 minuti è buono è buono un episodio che sta è la prima volta che muoio così che muoio così velocemente vabbè vabbè ho capito ma non mi posso da mettere non capisco non mi faceva fare base niente è già finita raga che merda è finita che merda vabbè e ci vediamo con la prossima one life challenge che devo dire è andata così mi sta un po' sul cazzo però capisce capisce però era la prima morta non è valida perché non c'avevo neanche i palletti là sotto per provare a recuperarli ma questo è un po' scorretto nei miei confronti però è andata così che ce devo fare e niente raga eeeh eeeh ed è finita qui da DemiMontese è tutto ciao a tutti Sivana I'm coming on Sivana I'll never be alone Sivana The beauty of the world Sivana Let's all take Sivana 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 Sivana